ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di mito e misteri scp oggi parliamo scp 1313 chiamato anche risolvere per l'orso classe cater livello minaccia aranciona poi c'è due specie di contenimento scp 1313 non è al momento contenuto per limitare l'impatto dell'anomalia il personale della fondazione deve monitorare tutti gli istituti educativi per notizie di numeri elevate di attacchi di orsi e mobilitare la ssm delta 10 il prima possibile verso siti degli incidenti a ogni civile conoscenza di scp 1313 devono essere somministrati degli amnestetici sebbene siano disponibili e se negli archivi della fondazione alcune copie di scp 1313 nessuna circostanza alcun membro del personale della fondazione deve avere conoscenza completa del problema qualsiasi membro del personale ritenuto nell'atto di risolvere scp 1313 deve essere rimproverato immediatamente dopo la cattura di dall'orso gli orsi in eccesso devono essere lasciato allo stato brado o usati come cibo soggetti di test per anomalie adeguate foto soggetto 1313 008 24 poco dopo la manifestazione descrizione esterci 1313 è una serie di anomali anomala di processi logici definibili come un'equazione matematica la quale risposta è un singolo esempio alle femminie di ursus arctos l'equazione in sé non sembra essere inerentemente anomala ma piuttosto una stranezza matematica invece di essere risolta da un numero di r bar a scp 1313 risolve nella produzione di un osso grizzly adulto tangibile solitamente arrabbiato la soluzione non deve essere rappresentata fisicamente e semplicemente il considerare il problema abbastanza a lungo per arrivare alla soluzione ha provocato la manifestazione di un osso dentro o intorno al soggetto che l'ha risolto scp 1313 non richiede nessuna particolare abilità matematica per essere compreso a parte una comprensione basilaria dell'algebra elementare ma tutti i passi della serie devono essere completati in sequenza per produrre la risposta corretta saltare parte di processo inizierà metà strada non risulterà in alcun effetto anomalo e probabilmente produrrà un risultato mandano al momento l'esame delle componenti parziali di scp 1313 ha rilevato le seguenti formazioni sull'anomalia scp 1313 stesso si attiene a tutti gli schiomi spalidi nella corrente teoria dei numeri gli orsi non possono essere fatti ritornare alla loro forma numerica risolvendo la loro equazione inversa almeno fino all'invenzione di uno metodo per applicare le operazioni matematiche a oggetti fisici scp 1313 può essere stato come elemento di altre equazioni per produrre risultati semi anomali per esempio scp 1313 è come soluzione alla radice quadrata di un osso grizzly vivo similmente scp 1313 alla seconda dovrebbe essere e poi tutti i due orsi grizzly non si raccomanda di risolvere tale equazione derivate in quanto le creature risultanti sono solitamente scassamente integrate nella nostra realtà essendo invariabilmente estremamente ostili durante la loro breve esistenza gli orsi grizzly esistono all'interno dell'insieme di tutti i numeri animali e non sono primi la radice quadrata di un orso grizzly è prima tuttavia è l'unico numero primo che ha non è un numero cardinale non è né pari né dispari contiene una componente animale le implicazioni del fatto che la radice di un osso sia un intero è di conseguenza che gli ossi esistono su un asse numerico ordinato sono attualmente al vaglio del professor hutchinson scp 1313 è stato portato all'attenzione della fondazione nel 1967 quando si verificero un attacco di osso nella wet cross high school hereford inghilterra da allora sono stati osservati 1724 attacchi di orsi con una stima di 1600 morti e 900 si periti dei 1724 ossi derivati matematici di ossi almeno il 20 per cento non è stato catturato nota se durante la natura di questo documento hai ponderato sulla natura di scp metri 113 tanto da sentirsi dirti di avere formulato in modo indipendentemente una parte della sua struttura viene consigliato di avviare verso la stazione verso la stazione di distribuzione amnestetici più vicina del tuo sito e poi verso il controllo animali la mancata esecuzione può risultare in sezioni disciplinari e offerite da orso nota a piedi pagina è in corso una ricerca sulle possibili applicazioni militari di orsi grizzly indirizzi irrazionali esponenziali e immaginari interprese da una squadra congiunta di divertimenti matematica e di zoologia della fondazione se il video vi è piaciuto come sempre vi lasciate un bel mi piace per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima